Ciao Astronomers! Il SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN è un montaggio equatoriale e altazimutico che puoi usare con i vostri EGLE e altri dispositivi Primo Lucilab per fare l'astrofotografia in modo che preferisci! Vediamo come! Iniziamo con le specifiche tecniche Il SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN è il montaggio che consigliamo per telescopi mediano, come gli telescopi smith-cassagoni a 9.25", Newtoniani a 10", o rifractori a 5", da che questo montaggio ha capacità di capacità di 20 kg e è ancora portabile, con un peso di solo 15 kg e un tripode di 7.5 kg Nella cappella troverete anche due punte di punte di punte di 5 kg tra il total di punte di 32.5 kg, completamente assemblato Il SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN viene con il tripode il handpad del SYNSCAN per l'automatica ottimale per molti obiettivi nella base di database un porto di autoguido autoguido e un polarscope illuminato e una delle grandi funzioni del SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN è che lo puoi usare in modo equatore come il montaggio equatore o puoi convertirlo in modo altazi in modo molto semplice solo uscire le scuole rotate l'attitudine sette in nodo e uscire l'attitudine in modo altazi non solo questo è ottimo per l'utilizzo visuale ma grazie a un encoder dual puoi movere il montaggio manualmente senza perdere l'alignamento il SCIWATCHER anche include un clamp che permette di installare un secondo telescopio in parallelo il SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN che ha un'attitudine molto buona traccia in effetti, vedo sempre un graffo con più o meno 5 secondi per i periodi e se usciamo le scuole sul pannello troviamo una trasmissione di trasmissione che aiutano a minimizzare l'attitudine questo è molto importante per migliorare la performance autoguido anche se un piccolo attitudine resta perché questo non è un design di trasmissione completamente ora vediamo come possiamo anche migliorare questo SCIWATCHER AZ EQ6 SYNSCAN molti di voi avete chiesto per un miglior clamp per il vostro telescopio e per questo ciò abbiamo designato un adattore per permettere di collegare il nostro plus clamp con l'AZ EQ6 SYNSCAN per riempire il clamp standard puoi anche riempire il tripod standard con il nostro C82 PIR se vuoi avere il modello permanentemente installato nel campo, per esempio sulla base di concrete prossimo come puoi prendere controllo del vostro modello rimotamente? è molto semplice quando hai l'EGLE collegato al vostro telescopio prima di tutto l'EGLE può distribuire il potere ai vostri monti AZ EQ6 usando il tabella PL100026 L100026Eagle type cable. Questo permette di poter portare il montaggio e rivolgirlo a e offre, anche se rivolgono la unità di potenza necessaria dal montaggio. Poi, per contrarre il montaggio, solo connettere il cable USB dal porto del 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 porto. Si può controllare la posizione e il configurato pewnamente planetario o software Yukon psicologico per Windows useri del porto del Porto del porto In questo modo, posso trasmettare il montaggio Aze Ke intacto dei Arco Rotator with Play Astrofotography software, Arco will automatically derotate the field, allowing you to perform deep sky astrofotography in the easiest way. This is how it works. With the SkyWatcher EZ EQ6 scene scan in Altazzi mode, you connect a USB cable directly from the USB port of the mount head to the USB port of your Eagle or standard Windows computer. The telescope has to be pointed north or south if you are in the southern hemisphere and to the horizon, then turn on the mount and other devices like camera, focuser, etc., and launch Play. Connect to Comport of the SkyWatcher EZ EQ6 scene scan and to the SestoSensio 2 or SatoFocusers with Arco Rotator. Make a go to to any of the included database objects and Arco will automatically derotate your camera. By using this technology, I've been able to record this beautiful picture of the Orion Nebula from my urban light-polluted sky with the telescope you saw in this video and without any autoguider, portal alignment or meridian flick. It has been so fast and easy. And one of the things I like the most about this telescope setup with the SkyWatcher EZ EQ6 scene scan mount is that you can begin your astrofotography journey in this easy way and then add more advanced features and software or move to equatorial mode when you have more experience. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and clear skies! Bye guys!